ah 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 yeahzzee cao a tutti ragazzi Ciao ozi siamo con... chi sei? non lo so sono il signore chi sei? quattro occhi sono il signore droghi Kenda è qua con noi e a casa mia spero che mi sia possa sentire ragazzi ti sentisco Provo prova prova mi fai un pochettino di posto Si vieni un po' Oggi siamo qua insieme, è venuto Kendal a trovarmi a casa mia, cioè a San Marino, come ti stai trovando a San Marino? Ma molto bene, ho visto che intanto hai tanti giocattoli, sono molto contento di questo, sono molto belli Ti piacciono i miei giocattoli? Sono miei perché c'è un motivo Perché? Perché sono miei Ah certo, quindi ci puoi giocare soltanto tu Tieni la pozione Tieni, no, vai, sono tutti tuoi Prendi, forza No, tranquillo Va bene, ok, grazie Quanti regali nuovi Prendi anche questo, prendi questo Ti do anche Aspetta, non è mica finito Chandi, sai qualcosa? Mentre ci siamo Dai, siediti che dobbiamo fare un po' Mi ha detto che c'è un po' L'ho rotto? Andiamo a terra, si può rompere la spada Allora c'è un breaking Un breaking, allora prendiamo tutte queste cosine Perché oggi dobbiamo fare un video di domande Perché abbiamo chiesto Come vi chiamate? Non dobbiamo fare le domande a loro No, loro S'hanno fatto delle domande a noi Tramite Instagram Perché abbiamo chiesto Di farsi delle domande Ovviamente Bravo, quindi seguiteci su Instagram Ale-Candle Zocca Dove sono le domande? Dove sono le domande? Non si sono più una domanda Allora sono spariti Perché lui le ha fatti in una storia E quindi ora spariscono Allora prenditi Te cosa vuoi? Io voglio Vuoi? Tutto tuo Tutto... Ma scusa, lasciami qualcosa Ok io prendo il piscino Pensavo di aver trovato il materiale del divano Allora quanti video... No L'hai letto male? Allora quanti anni avete? Io l'avevo già detto ragazzi In un videopresidente In un videopresidente In un videopresidente In un videopresidente Piazza del presidente Dove? Allora in pratica Spiegavo che Kendall ne aveva 12 20... 22 Lui ne ha 22 Io 24 Sono un po' più grandino Quindi sappiamo entrambi Chi è più grande comanda No vabbè Il tuo animale preferito ragazzi Qual è il mio animale preferito? Secondo me il gatto Ti do un indizio Scusa è un altro Ah è un polto Io vado via Ah no è un polto Ragazzi è un polto Guarda qua Allora poi No non esce l'acqua No Ti diverti con tutto Prima me li hai dati tutti a me E adesso li hai rimessi tutti Certo perché ci voglio giocare io Ma li posso portare a casa? No 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 non te li puoi portare a casa Perché sono miei Allora prenditi il cuscino E il cuscino Il cuscino esplosivo Prendi il cuscino esplosivo Perché dobbiamo leggere ancora altre domande Allora Cosa chiedono? È la prima volta che vi vedete dal vivo Sì Però No è vero no Abbiamo fatto un video Lui È la prima volta che vi vedete dal vivo Ci siamo visti ieri per la prima volta dal video A Firenze Ci siamo visti a Firenze per la prima volta Sì È niente Quindi questa è la seconda volta E questa è la storia della nostra prima veduta Ma così? Quante uova fai al giorno? Fallo vedere Dai dimostrazione di come si fanno le uova Andiamo in cucina? Dai in cucina Allora questo è No 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 basta A questa domanda non ci sarà una risposta Due uova Come stai con Kendra? Come stai con me? No dove l'hai letta? Dai 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 dillo Dillo che ti diverte Devo dire che sto molto bene È molto È un ragazzo molto simpatico È un bravo ragazzo A volte è difficile da sopportare Ma come? No è bravo Ci troviamo molto bene Perché come non trovarsi bene con me Vabbè sì dai Diciamo che anche lui è un po' simpatico Perché mi sta dando che si sta scaricando Cosa state facendo? Un video Un video Sì L'ho detto prima io No l'ho detto io Quanto starei lì Kendra ragazzi purtroppo Cioè quanto starei? Ma me ne vado oltre un'ora Me ne vado oltre un'ora Però se volete altri video insieme Mi raccomando Cosa devono fare? Un bel like Come vi siete conosciuti ragazzi? Ci siamo conosciuti perché Io ero bellissimo Kendra Dai dillo la verità Allora ci siamo conosciuti perché Kendra Un giorno mi scrisse E mi chiese se volevamo fare dei video insieme Io molto curioso Mi piaceva il suo canale Vedevo che era molto bravo Grazie Modestamente Mi tocca dirlo Decisi ok proviamo E' nata la nostra Fantastica amicizia La nostra Fantastica È lì dai pugni Modalità creativa o survival Creativa Dai Survival tutta la vita Ma si Puoi fare tutte le costruzioni Uomo di vanilla Si ma la casa Se facciamo la casa Venom contro spider Come la fai con la vanilla? Lo so però Non puoi però Creativa Creativa Smetti Cambio di programma Aspetta Non la metti Non la metti Cambio Posso iniziare? Cambio di programma ragazzi La telecamera mi si è scaricata Quindi perfetto Stiamo usando la via Però noi siamo felici comunque Perché Siamo felici Fammi sistemare qua Perché io sono Eh no Vabbè Metto di nuovo le ciabattine Ti c'hai? Ma cosa stavo facendo? No niente Ti ho visto Te lo diranno loro Dopo Ti ho visto Oh vai qui là Ma spassati un po' Allora Cosa hai in mente per il futuro? Sicuramente tantissimi video nuovi Anche purtroppo insieme a Insieme a Kendall Allora abbiamo in mente un sacco di cose bellissime Ma io dico ragazzi che almeno ci sono ben 5 serie in programma Che già vi piaceranno tanto tanto Come per esempio Lo vogliamo dire? Spoiler Mega spoiler Non lo diciamo No no Non ve lo diremo mai Allora se volete saperlo dovete lasciare un like a questo video Iscrivervi al canale Anche di Kendall E continuare a guardare tutti i video Perché potrebbero esserci dei colpi Pimpam popen! E' complicello! Metti delle esplosioni poi! Ah, c'hai dovuto! Pimpam popen! Pimpam popen! Pimpam popen! Pimpam popen! Pimpam! Ahimai! Aspettamene una! Ho creato l'arma leggendaria! Che arma leggendaria? Guarda lo spadacone! Perché ti sei bevuto troppo succo di mela? Lo spadacone! Dov'è? Dov'è il succo? Dov'è? Guarda qua! Guarda io lo so! Ha le allucinazioni di Minecraft! Forse è un ubriaco! Un ubriaco di un vissuto! Allora, hai mai fumato? No! E non fatelo! No! Non ti fumo! Poi, un'altra! Qual'è il video che ti è piaciuto più di tutti? No! A me è piaciuto più di tutti! Aspetta, non è così la domanda! Mi sono intruzzato gli occhi! Qual'è il video più bello che hai fatto secondo te? Quello con me! Quello con Kendra! Il video più bello che ho fatto secondo me è stato quello dei 100.000 iscritti perché è stata una liberazione incredibile! Vabbè, a parte quelli con Kendra che sì, mi diverto! A volte! Aspetta, cos'hai fatto per i 100.000? Per i 100.000 è uscita la face! Ah, è uscita? È fuori! Mi sono fatto vedere in faccia ragazzi! Quindi è stato un traguardo! Quindi è stato quello! Guarda! Guarda che ti vedo eh! Ah! Ti si vede eh! Ma non so di cosa ti sento! Un pochettino! Perché hai deciso di creare un canale YouTube? Boh! E noi abbiamo! Volevo... Volevo divertirmi insieme a qualcuno e devo dire che qualcuno siete diventati voi quindi sono veramente... ...contentissimo! Ma l'hai scaricata? Sì! L'ho spenta io! Guarda! Bene ragazzi! Per questo video è finito! Io spero che vi sia piaciuto! Lasciate tantissimi like! Così... Allora aspetta! No, no, no! Almeno... Almeno! Se non lasciate mi piace vi rubo tutti i diamanti! Comunque sei nel mio territorio da prima! Io non... Facciamo finta come sei a casa tua! Quindi fateci... Almeno 6.000 mi piace! Almeno 6.000 mi piace! Fateci sapere se questi video insieme vi piacciono così ci potremmo rivedere magari! Uffa! Uffa! Quindi noi vi salutiamo e ci vediamo domani con un prossimo video! Ciao! Ciao!